Ciao e bentornati su Recensioni Minute. Torno a parlarvi di Sagrada e precisamente vi parlo di una nuova piccola espansione, la prima della serie Le Grandi Facciate, che andrà a integrarsi con il gioco base. E precisamente vi parlerò di Sagrada Passione, sempre di Daryl Andrews e Adrian Adamescu, 1 o 4 giocatori e sempre durata 45 minuti e sempre editi in Italia dalla Cranio Creations. Vediamo quindi quali sono i nuovi moduli che potremo inserire e quali sono le carte che si integrano nel gioco base. Vediamo! All'interno della scatola di Sagrada Passione troveremo il modulo vetro raro, il modulo ispirazione e 6 obiettivi pubblici che possiamo utilizzare con il nostro gioco base. Questi due moduli possono essere aggiunti insieme nella nostra partita oppure singolarmente a nostra scelta. Per utilizzare il modulo ispirazione, semplicemente prima di vedere la carta schema ciascun giocatore riceverà casualmente una di queste carte. La carta va tenuta faccia in su a fianco della propria plancia e queste permetteranno di avere dei poteri speciali o una volta per round o una volta per partita, a seconda del testo scritto su DS. Il giocatore potrà attivarle a suo piacimento. Per quanto riguarda il modulo vetro raro, invece, funziona in questo modo. Al posto di una delle carte utensili messe al centro del tavolo, potremo scegliere inizio partita casualmente una di queste vetrate vetro raro. Lanceremo per ciascuno spazio vuoto della vetrata uno di questi dadini vetro raro e lo piazzeremo al suo interno. A questo punto i giocatori nel proprio turno potranno attivare l'effetto della finestra vetro raro pagandone il costo in segnalini favore come riportato qua sotto e leggendo cosa fare qua dentro e guardando lo schemino riportato sopra di esso. Inoltre potranno piazzare nella propria plancia questo dadino vetro raro. Non si può piazzare più di un dado vetro raro all'interno della propria plancia, ma questo non ha alcuna restrizione di colore, è considerato non avere colore. Pertanto potrete metterlo vicino a qualsiasi colore di dado o sopra qualsiasi casella di qualsiasi colore della vostra plancia vetrata. Ovviamente però le restrizioni del valore permangono. Questi infine sono gli obiettivi privati legati al dado vetro raro. Vi daranno punti a seconda della posizione reciproca degli altri dadi della vostra plancia rispetto al dado vetro raro che avrete piazzato. Parliamo un po' di questi moduli e partirei da ispirazione che mi è piaciuto proprio tanto. Più che altro perché dà un'impronta molto diversa alla partita. Dovrete approcciarvi in maniera differente, cercare di gestirle in maniera diversa e soprattutto in maniera molto asimmetrica rispetto ai vostri avversari. Se già prima quindi dovete valutare i vostri dadi, i dadi che possono interessare agli avversari, qua può cambiare tutta la prospettiva. Ad esempio vi posso parlare di questo potere che dice che una volta per partita puoi prendere tre segnalini favore presenti su una carta utensile. Questa cosa vi permette quindi di sprecare in qualche modo i segnalini, utilizzare magari gli utensili anche per fare delle mosse non ottimali, quindi anche quelle che spostano i dadi potrete usarle solo per far pagare di più i vostri avversari e poi recuperarne tre. Tre che possono essere anche utili per farvi ripagare solamente uno se svuotate uno degli utensili. Insomma avete capito che un potere che sembra innocuo può davvero cambiare le sorti di come giocherete. Parliamo poi del vetro raro. In questo caso diciamo che cambia solamente un po' il modo di acquistare questi dadi vetro raro. Anche in questo caso, anche se non avete l'obiettivo privato vetro raro, vi consiglio assolutamente di puntare a piazzarne uno nella vostra plancia. Vi semplifica moltissimo le cose. È vero che ha sempre il vincolo sul valore questo piccolo dadino, ma il fatto che non abbia alcun colore vi può davvero risolvere anche piazzamenti errati. A volte magari avete considerato un sacco di cose e vi siete piazzati il dado rosso a fianco della casella che per forza deve avere rosso. Questo dadino quindi scelto nel momento giusto, non è necessariamente da prendere nei primi turni, ma nel momento giusto può davvero risolvervi la partita e soprattutto risolvervi la facciata. Per quanto riguarda poi gli obiettivi privati, vi dico di giocarli magari in un secondo momento. Dovete essere ben esperti con questo dado vetro raro, perché è vero che vi ho spiegato che vi semplifica la vita dal punto di vista del piazzamento dei dadi, ma questi obiettivi privati vi forzeranno i dadi intorno a questo dadino che avete piazzato in una maniera molto consistente. Tanto che a volte potreste perdere di vista gli obiettivi pubblici. Per portare a casa i punti di qua non vedete quelli dei pubblici e viceversa per fare gli obiettivi pubblici non portate a casa niente da questa parte. Quindi inserite questi obiettivi e magari decidete proprio di giocare una partita in cui tutti i giocatori hanno per forza uno di questi obiettivi che prendono il vetro raro, in modo che tutti abbiate lo stesso livello di complessità nello stesso momento. E arriviamo a questi obiettivi pubblici che potrete tranquillamente anche mescolare nella vostra partita base senza gli altri due moduli. Sono molto interessanti ma molto complessi. Molto complessi innanzitutto da comprendere perché puntano molto sulle simmetrie, sul piazzamento nella parte alta, nella parte bassa della vostra vetrata, sui colori che si intersegano fra di loro. Quindi dovrete fare una buona lettura prima di iniziare a giocare. Ma soprattutto quello che vi dico è che si incastrano in maniera molto strana fra di loro. Per non dire che non si incastrano fra di loro. Sono talmente vincolanti su questo sistema di simmetrie, di traslazione dei colori che se punterete su uno di questi obiettivi non riuscirete a portarne a casa un altro. Oppure farete troppi pochi punti su entrambi gli obiettivi. Quindi nonostante vi verrà la tentazione, come è venuta a me, di mettere tutti insieme questi obiettivi pubblici per provarli in un colpo solo, mixateli con gli obiettivi base. Tenetele solamente uno, massimo due di questi qua perché altrimenti forzerete la partita in una direzione che è difficilmente controllabile. Direi che con questo ho finito. Mi piace molto questa idea della modularità delle espansioni perché vi permette di non appesantire la partita buttandole dentro per forza tutte perché altrimenti qualcuna rimane monca o perché qualcuna necessita l'altra per funzionare al meglio. Ognuna è a sé stante e ognuna funziona bene di per sé, quindi potete sceglierla. La scatolina è piccola e vi dico che questa espansione riesce a rimanere comunque contenuta all'interno della scatola grossa come quella per 5 o 6 giocatori di cui vi ho già parlato in precedenza e non mi resta che dirvi di fare una partita di prova e dirmi come va. Con questo ho finito, vi saluto e vi dico ciao e alla prossima! Che dire se non che anche le scatoline piccole possono riservare una bella sfida dal punto di vista delle recensioni. Direi quindi che vi chiedo un like qua sotto se vi è piaciuto il filmato o un pollice giù se non vi è piaciuto e vi chiedo di iscrivervi al canale Telegram per rimanere aggiornatissimi su tutto quello che è recensioni minute e un po' il mondo del gioco da tavolo in generale. Su Instagram poi troverete dietro le quinte e anticipazioni. Ciao di nuovo!